La vita prosegue anche senza centravanti o meglio la maglia numero 9 per ora non andrà sulle spalle dei calciatori che i tifosi dirigenti si aspettavano ma su quelle di elementi che comunque cercano il riscatto oppure possono approfittare di un'importante chance concessa dal caso. Partiamo da quest'ultima situazione, ci riferiamo alla Paganese e tanti nomi che sono stati accostati al mercato del club azzurro stellato quest'estate, specie proprio per il ruolo di centravanti. Nessuno dei giocatori di cui si è parlato è però giunto alla corte di Cuoghi e pensare che di tempo ce n'era, hanno osservato i fans della Paganese ma il mercato dei numeri nuovi è sempre molto complicato. Una volta individuate le pedine che si pensa possono essere quelle giuste c'è da fare a gara con altre società con le esigenze degli stessi giocatori con problemi vari. Nel caso di Giacomo Cipriani che si allena con Limolese vorrebbe venire a Pagani ma ha da risolvere alcune questioni societarie. Si parla nelle ultime ore di Gianvito Plasmati, giocatore che potrebbe fare al caso di Cuoghi e del suo sistema di gioco, vedremo. Non è da escludere poi la pista estera. Di sicuro nelle prossime partite avrà una chance non da poco Giancarlo Malcore, il ragazzo che a Lecce non aveva spazio, che stava cercando di crescere a Nocera prima dell'uscita di scena dei rossoneri l'anno scorso e che ci riprova ancora nell'agro Nocerino, stavolta con la maglia della Paganese. Malcore dovrà darsi da fare. Dalle sue prestazioni potrebbe dipendere il mercato del presidente Trapani. Discorso uguale ma allo stesso tempo diverso per la Salernitana. Due sono i centri avanti a disposizione di Menichini, Mendicino e Ginestra. I tifosi si aspettavano Sforzini o Coda o chi per loro. Invece bisognerà proseguire con i giocatori che già c'erano. Mendicino comunque, se sta bene fisicamente, ha dimostrato di poter fare molto per la Salernitana. Ginestra è più di un'alternativa anche se gli anni avanzano. Ma i Granata avranno dalla loro fantasisti dal grilletto facile come Negro, Gabionetta, Khalil, Munar e centrocampisti che sulle palle ferme e gli inserimenti possono far male come Favasuli e Volpe. Insomma, i tifosi non hanno veramente di che lamentarsi.